Emergono inquietanti novità intorno alla figura di Don Roberto Pellissari, il sacerdote 63enne, figlio di emigrati di Sant'Angelo Invado, che ora risiede in Svizzera, verso il quale la diocesi di Urbino ha aperto un'inchiesta, dopo aver ricevuto tramite lo sportello di ascolto una segnalazione di un caso di abuso su minore. La stampa svizzera ha riportato la notizia di una sospensione del prete all'inizio di ottobre dell'anno scorso dal vescovo di Friburgo per un sospetto abuso sessuale commesso tra il 2019 e il 2022. Don Pellissari risulta ancora sospeso, ma non è finita. Il sacerdote era già stato allontanato dalla Chiesa dieci anni fa perché è accusato di aver sottratto fondi a due parrocchie del cantone VAD. Secondo un comunicato stampa diffuso all'epoca dalla Chiesa Cattolica Vadese, il sacerdote avrebbe danneggiato finanziariamente le due parrocchie di cui era responsabile, con denuncia per appropriazione indebita. Si parlava di diverse migliaia di franchi. Per questo Pellissari era stato poi condannato dal tribunale svizzero a 150 giorni con condizionale e quasi 8.000 franchi di penale, circa 8.500 euro. In merito a quest'ultima vicenda, il vicario episcopale, rappresentante del vescovo nel cantone di appartenenza, ha riferito che Don Pellissari aveva ammesso i fatti, chiedendo perdono. Nel dicembre 2013 la sua sospensione era stata revocata dalla diocesi, dopo che il denaro era stato rimborsato. Sabato scorso, otto agenti della Polizia Scientifica di Ancona avevano setacciato da cima a fondo la villa di Sant'Angelo Invado, della quale Don Roberto Pellissari è proprietario anche alla ricerca di tracce biologiche. In quella casa si sarebbe consumato una violenza sessuale la scorsa estate con abuso su un minorenne. Don Pellissari era stato a Sant'Angelo Invado per circa tre anni, durante il periodo del Covid, e poi nell'estate del 2023, per occuparsi della madre anziana e malata. Il vescovo di Urbino, Monsignor Sandro Salvucci, ha segnalato la situazione al di Castero per la dottrina della fede, contattando anche il vescovo svizzero di Lausanna, Ginevra e Friburgo per comunicare l'apertura di un'indagine a carico di Don Pellissari. La procura di Urbino ha aperto un'inchiesta dopo la segnalazione. La villetta, ora sottoposta a sequestro penale, era stata messa in vendita, le pareti ridipinte e all'interno non ci sono più mobili.